Buonasera. Questa sera vorrei tentare di mettere alcune informazioni su un argomento che suscita spesso domande, ed è riguardo il meccanismo degli assegni familiari. Allora, noi sappiamo che gli assegni familiari sono un contributo, un sostegno economico che viene erogato dall'Inps, e viene erogato dall'Inps tenendo conto di due parametri. Il numero di componenti è collegato alle famiglie, ed è collegato quindi al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo del nucleo familiare. Quindi, noi abbiamo questo intervento di tipo economico, in effetti un intervento allo stato attuale ancora molto limitato, come chiunque sa, ma che c'è. Ci sono poi alcune domande, assolutamente ricorrenti, alcune problematiche assolutamente ricorrenti. Tento di rispondere a un paio, eventualmente su questi argomenti poi torneremo. Primo, la domanda classica. Vale per i dipendenti, hanno diritto ai dipendenti, ma sono i dipendenti, i lavoratori dipendenti? No, sicuramente anche i pensionati, i lavoratori del lavoro domestico e in modo particolare tutti quelli che percepiscono una indennità di tipo previdenziale, chi è l'esempio in cassa integrazione, NASPI, indennità di immobilità, tutti coloro che hanno un sostegno di tipo previdenziale hanno diritto agli assegni familiari. Ma qui si collega l'altro problema, chi paga gli assegni familiari? O meglio, chi li paga al lavoratore? Perché il soggetto erogatore è sempre l'IMSS. Ma mentre un rapporto di lavoro, un lavoratore è in forza, vengono anticipati dal datore di lavoro. Cioè il datore di lavoro paga al lavoratore di assegni familiari e poi va a compensazione con l'IMSS. Ci sono alcune situazioni in cui però è l'IMSS a pagare direttamente il lavoratore e in modo particolare sulle colfe che ho detto prima, sui lavoratori di lavoro domestico che ho detto prima, in tutti i casi in cui c'è un sostegno di tipo previdenziale, ma soprattutto, questo è il problema centrale, quando c'è il datore di lavoro che non paga perché è fallito o ha cessato l'attività. Torna indietro, il lavoratore ha diritto ad avere i propri assegni familiari, ma il datore di lavoro non glieli paga. Non gli paga né gli assegni familiari, tante volte non gli paga magari neanche lo stipendio. Però non è ancora fallito o magari perché è molto piccolo per non fallire. Magari il datore di lavoro non è cessato perché ci vuole una delibera magari societaria per aprire una liquidazione. A volte le aziende si insabbiano, spariscono, il datore di lavoro sparisce. Cosa fa il lavoratore? Il lavoratore ha diritto di chiedere e di pretendere dall'Inps il pagamento perché il debito per assegni familiari è un debito Inps. Sembra facile, perché l'Inps non è mica tanto d'accordo. L'Inps dicono, eh no, se non c'è il fallimento o non c'è la formale cessazione, io l'Inps, l'Istituto Prevenziale, non intervengo. Allora il lavoratore, giustamente, deve attivarsi nei confronti del datore di lavoro, deve fare in modo di insistere nei confronti del datore di lavoro, ma laddove il datore di lavoro non dovesse pagare, io insisto nel dire il debito è un debito Inps e il lavoratore ha diritto a rivolgersi all'Inps, a chiedere il pagamento. Altro elemento, domanda fondamentale che viene spesso ripetuta. Il lavoratore, per fare domanda al proprio datore di lavoro, per chiedere il pagamento di assegni familiari, può farlo anche entro quanto tempo lo può fare? Termine di prescrizione sono cinque anni, ed è possibile, ed è possibile chiedere il pagamento di assegni familiari anche su rapporti di lavoro nel frattempo cessati, fermi restanti cinque anni, fermo restanti cinque anni, ma anche rapporti di lavoro nel frattempo cessati, cioè conclusi, rivolgendosi al vecchio datore di lavoro che è tenuto a questo punto a, io dico pagare, è un termine sbagliato, ad anticipare al lavoratore gli assegni familiari, potendo poi il datore di lavoro, giustamente perché è un debito Inps, andare a chiedere all'Inps di restituirglieli attraverso un meccanismo di compensazione con i soldi che lui debba all'Inps o comunque agli organismi statali. Grazie, buonasera. Oggi parleremo del diritto all'oblio, che è un diritto che ha assunto sempre maggiore importanza negli ultimi decenni, in parallelo allo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione, e soprattutto internet, che come sappiamo detiene o comunque si avvale di una quantità enorme di dati personali che riguardano ciascuno di noi, è un diritto che non tutela la stretta riservatezza del soggetto e quindi impedire che vengano diffusi i dati personali, ma che tutela il diritto del soggetto a non vedere rievocati i fatti del passato, esponendolo nuovamente a un interesse mediatico o pubblico, in ogni caso indesiderato. Fra tutti l'esempio può essere più calzante quello dell'attività giornalistica, il caso poniamo degli articoli di giornali, fatti di cronaca o fatti giudiziari che riportano notizie su fatti personali del soggetto. Fatti giudiziari possono anche essere, senza arrivare fino alle sentenze, anche un soggetto indagato, sappiamo che molte volte purtroppo trapelano dalle procure e ai tribunali in qualche modo delle informazioni che espongono anche in una fase di segretezza della fase di indagine il soggetto a un trattamento di dati pubblico, ma non è solo l'attività giornalistica, si può anche considerare il caso in cui sia direttamente il soggetto interessato che in un momento di distrazione e inconsapevolezza a consente alla divulgazione dei propri dati personali pentendosene eventualmente in futuro quando questi vengono riproposti. Fra tutti il caso più delicato è quello dei minorenni che sappiamo hanno un utilizzo molto inconsapevole di questo mezzo di comunicazione e che possono esporli a diversi rischi. Quindi fra tutti il rischio può essere quello di impedire che possano o comunque precludere la possibilità di cogliere dell'opportunità di lavoro perché sappiamo tutti ormai che una buona parte delle valutazioni dei candidati alle posizioni di lavoro siano fatte tramite una ricerca sui dati personali delle persone candidate al fine di valutare le abitudini di vita o gli orientamenti politici, ma anche nel caso in cui siano gli stessi minori che divulghino questi dati personali. ADECCO che è un'agenzia interinale italiana particolarmente accreditata ha diffuso dei dati che hanno una rappresentazione fedele di questa tendenza dal quale emerge che più di due candidati su tre quindi il 71% dei candidati a ricoprire posizioni lavorative sono oggetto di un controllo preventivo precedente alla fase del colloquio al fine di appunto valutare le abitudini di vita dei soggetti candidati alla posizione di lavoro. Cosa fare? Certamente impostare delle requisiti privacy sui profili internet che siano tutelanti rispetto alle informazioni personali del soggetto, ma anche valutare la possibilità di esercitare il diritto all'oblio alla cancellazione del dato personale quando questo arricchia un pregiudizio e possa procurare il rischio appunto di perdere delle occasioni di lavoro. Chiedere quindi al titolare del trattamento, ossia chi decide le finalità del trattamento e dispone del dato, di cancellare il dato personale. è il caso questo che è stato affrontato anche dalla Corte di giustizia europea in un'importante sentenza del 13 maggio 2014 nell'ambito della quale per la prima volta è stata qualificata l'attività del motore di ricerca come un'attività del titolare del trattamento senza entrare in dogmatismi. Questo significa che si può esercitare il diritto all'oblio a seguito di questa sentenza anche nei confronti del motore di ricerca. Perché è particolarmente importante questa pronuncia? Perché, come sappiamo, abbiamo tutti una certa dimestichezza ormai con l'uso di internet perlomeno a un livello anche solo elementare. È il motore di ricerca che ci consente di vedere dei dati personali dei soggetti in una maniera ampia. Perché se da un lato vi sono i singoli siti che dispongono dell'informazione personale, per vedere le quali dobbiamo entrare direttamente nel sito, il motore di ricerca ci consente, anche senza sapere qual è la fonte, il titolare del trattamento, il singolo sito che ha il dato, di imbatterci in una quantità infinita di dati personali. E quindi la possibilità di chiedere al motore di ricerca la cancellazione dei dati e quindi di togliere dai propri indici il dato personale indesiderato, è un aspetto particolarmente tutelante dell'identità personale e della privacy. È chiaro che verrà fatto un bilanciamento, verrà fatto il bilanciamento da un soggetto privato, nel caso di specie si tratta del motore di ricerca o comunque di trovare il trattamento che ha l'interesse a detenere il dato personale, perché il dato personale chiaramente è una ricchezza infinita per questi soggetti economici e sarà lui in prima istanza fare una valutazione sul bilanciamento tra il diritto all'informazione e all'opinione e comunque all'informazione e il diritto all'oblio e alla riservatezza dei dati personali da parte dell'interessato. È pertanto importantissimo fin da un primo approccio con il motore di ricerca o comunque con ogni titolare del trattamento argomentare o documentare in una maniera più approfondita possibile la necessità di cancellare quel dato e la prevalenza del diritto alla riservatezza e il diritto all'oblio rispetto alla necessità di diffondere quel tipo di informazione. Quindi valutare la possibilità di rivolgersi a un legale che possa accompagnare in questo tipo di confronto con il motore di ricerca, riservandosi la possibilità in caso di diniego da parte del motore di ricerca di rivolgersi o all'autorità garante per la privacy o direttamente all'autorità giudiziaria a fine di ottenere un provvedimento che coattivamente possa consentire la cancellazione del dato personale. Vi ringrazio e vi saluto a rivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti!